Carlo, Carlo, Carlo. Grande Carlo. Un, due, due. Poi con l'Inter vogliamo bolla. Come col bocca, Carlo. Carlo. Benvenuto, Carlo. Grazie, grazie. Brandissimo. Vai, eh. Benvenuto. E subito porto l'Inter, eh, Carlo. Grande, Charlie, forza io. Grande, Carlitos. avete visto in avvio l'arrivo di Alcaraz al J Medical per lui selfie per lui autografi e sono sempre scene molto belle perché mi riportano alla teneretà quando anche io col mio tacquino andavo a caccia di autografi però non andava di moda il selfie non c'erano gli strumenti e ricordo la Polaroid per immortalare quei momenti che ancora custodisco gelosamente e poi magari più avanti condividerò con voi qualche autografo qualche cimelio che ho rimediato nel tempo perché conservo tutto in maniera molto dettagliata quindi magari inventiamo un format AmarCord però veniamo alla cronaca perché Alcaraz appunto oggi si è sottoposto a dei test però non si è allenato con la squadra in quanto mancano ancora delle pratiche burocratiche vi ho già raccontato come da UK tesseramenti ci voglia un pochettino di tempo per il transfer vediamo cosa accade domani però secondo me a livello di burocrazia entro oggi la Juventus riuscirà a completare quello che deve completare affinché qualora Max Allegri volesse l'argentino potrebbe dire la sua andando in panchina a San Siro domani conferenza stampa alle 11.30 una conferenza stampa importante pre-Inter perché direttamente dalle parole tecnico-livornese comprenderemo appunto la vicenda Alcaraz il tesseramento se Tiago Jalò andrà o meno in panchina e poi come stiano gli altri le condizioni anche oggi non c'è nulla da segnalare in gruppo Rabiot in gruppo Chiesa in gruppo McKennie e quindi questi tre calciatori sicuramente saranno della partita però attenzione sempre al mercato uno può dire ma come è finito ieri in entrata alle 20 già oggi 2 febbraio vuoi parlare di mercato lo faccio perché proprio da oggi i calciatori in procinto di diventare free agent svincolati possono accordarsi o pre-accordarsi con altre società ogni riferimento a Felipe Anderson è puramente voluto ho avuto delle indicazioni questa mattina che mi portano a pensare che in occasione della prossima settimana la Juventus possa o incontrare la sorella gente di Felipe Anderson o sentire con tutti gli strumenti moderni che esistono per cercare di arrivare a un'intesa sapete perfettamente ve lo racconto praticamente da fine novembre come la Juventus abbia messo gli occhi su questo giocatore sapete altrettanto bene come la Lazio abbia formulato un'offerta ufficiale al suo entourage per cercare di rinnovare il contratto mettendo sul piatto un'offerta importante 3 milioni e mezzo netti su base pluriannale compresi bonus ora vediamo cosa porterà questa negoziazione in corso tra la Juve e appunto la sorella gente però dobbiamo cerchiare di rosso il nome di Felipe Anderson perché può rappresentare un'opportunità l'ho già detto la Juve in estate dovrà fare non tantissime cose ma più cose e quindi non è che puoi pensare di effettuare investimenti onerosi per 4-5 profili si dovrà centellinare qualsiasi passo all'insieme della sostenibilità con il rientro in Champions si può alzare leggermente l'asticella ma non è tempo di spendere 80 milioni alla Dujan Blauvic quindi Felipe Anderson chiaro che anche dal punto di vista tattico ci porta a chiederci come mai la Juventus stia pensando al brasiliano cioè giocando in questa maniera in quale posizione giocherebbe sarebbe o sacrificato come seconda punto o comunque per come è impostato attualmente il reparto offensivo a livello proprio di sistema di gioco non si troverebbe un grande un grande perché a questo eventuale innesto ma facciamo fatica a prevedere cosa accadrà tra dieci minuti figuriamoci come potrebbe essere la Juventus a stagione 2024-2025 rimane ancora Allegri? non rimane Allegri? se sì chi arriva un tecnico che punta sul tridente oppure Allegri rimane e punta lui sul tridente offensivo insomma io penso che a prescindere da queste dinamiche siccome la Juventus sa che deve fare più cose sul mercato uno come Felipe Anderson che è un giocatore affermato credibile spendibile per la Serie A portarselo a casa consentirebbe di avere una soluzione in più io ve lo dico sinceramente è chiaro che qua si aprirà il tema ma domani ne parliamo proprio in profondità di quello che accadrà nei prossimi giorni tra la Juve e la sorella gente di Felipe Anderson ovvio che subito il pensiero del tifoso è ahia allora Mattias è sulle può partire seriamente dopo che ha rifiutato a gennaio di andare in Arabia Saudita ci sono tante considerazioni da fare però se giochi col tridente hai anche bisogno di quanti esterni attacco meno 4 3 più 1 insomma non darei qualcosa per scontato non darei per scontato che la Juventus si voglia privare dei suoi giovani chiaro che non si può puntare su tutti io da su legnano convinto faccio il tifo affinché Mattias possa tornare alla Juve e possa mettere in mostra il suo valore qua a Torino dopo l'ottima gavetta che sta facendo a Frosinone però comprendo anche che altri giovani possano rappresentare meramente degli esterni che camminano concedetemi questa forzatura però devo entrare anche nell'ordine che non tutti quelli che sono in giro in questo momento rientrano a Torino e faranno parte dei programmi futuri della Juve qualcuno si qualcuno no e quelli no porteranno moneta sonante da reinvestire su calciatori che rappresenteranno eventualmente delle priorità e vi do un'altra chicchetta e anche qui approfondiremo nei prossimi giorni perché ho la sensazione che la Juventus su questo calciatore voglia mantenere viva la sua attenzione mi risulta che nelle ultime ore di mercato nell'ultima sessione da poco conclusa la Juve abbia provato a bloccare Daudà Traorè un centrocampista 2006 di proprietà del Nizza che non gioca ancora con la prima squadra ma che a livello di settore giovanile mi dicono più scout e davvero talentuoso quindi la Juve ha preso contatti con il Nizza ha cercato di bloccarlo per anticipare la concorrenza ma il Nizza non ci sente perché ritiene di avere tra le mani un vero e proprio gioiellino devo dire che sapete la mia totale sincerità su Alcaraz è un giocatore che non conoscevo Daudà Traorè un po' lo conosco ma no perché sia esperto di calcio o particolarmente attento semplicemente perché qualche settimana fa un operatore di mercato che lavora principalmente con la Liga mi ha detto fai attenzione a questo giovane di proprietà del Nizza ne sentirai parlare ora unisco i punti e credo che ne sentiamo parlare perché la Juventus abbia provato concretamente a prenderlo non un sondaggio la Juve ha fatto un'offerta al Nizza e pare tra i 4 e i 5 milioni per bloccarlo non un secco del Nizza sappiamo come da quelle parti poi i talenti vengono sempre valorizzati ai massimi livelli ci sono come potete immaginare altre grandi squadre interessate ma se andate un po' su Youtube proprio qua o se googlate Daudà Traorè vedete delle cose molto interessanti un citrompista piede destro grande fisico mezzala quindi è un nome che per l'estate ragazzi continuerei a monitorare e il fatto che si lavori tanto su 2006 2007 2008 comunque fa capire come la Juve in termini di scouting era e resti decisamente sul pezzo